Ciao, buonasera a voi. Mister, parto da quello che ho osservato nella panchina nei minuti finali dai suoi ragazzi in panchina, ossia la grande delusione anche per come è nato il gol di Viola che poi insomma ha tolto la possibilità di poter anche pareggiare nel derby per lo Scudetto. Le chiedo le prime parole che ha voluto dire ai suoi ragazzi dopo il fischio finale. No, io solitamente anche stasera non ho parlato, però sapevamo insomma di affrontare una squadra in salute. Il Cagliari ha fatto un'ottima partita, non ha mai mollato e chiaramente sia il primo che il secondo tempo un pochettino le loro ripartenze le abbiamo sofferte. Due volte in vantaggio, insomma, dispiace perché volevamo bottino pieno la vittoria davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che siamo vicinissimi a un grande obiettivo, però mancano ancora quei punti che possono darci la matematica. A voi. Andrea Stramaccione. Ciao Simone, buonasera. Ciao Mister, buonasera. Ovviamente, come hai detto tu, sono d'accordissimo, l'Inter ha fatto la sua partita, non è il caso assolutamente di fare analisi negative. Però ti volevo chiedere, per come io ti conosco e so quanta concentrazione e rabbia anche metti nel momento in cui l'Inter ha acquisito un vantaggio. Non tanto il primo, ma il 2-1. Reputi che forse ci sia stata magari la sensazione di aver concesso qualcosina che di solito l'Inter non concede? Penso anche all'ultima occasione, quella di Viola che ha parato. O comunque che la tua Inter di solito non ha concesso? Sì, assolutamente. Qualcosina abbiamo concesso. Sul primo gol chiaramente dovevamo lavorare meglio di reparto, dovevamo stringere di più. Poi insomma, il secondo gol chiaramente è un gol casuale. Poi abbiamo preso la ripartenza sul nostro calcio d'angolo alla fine, che è stata molto molto pericolosa. Però chiaramente, come ho detto prima, solitamente lavoriamo meglio sulle ripartenze dell'avversario. Abbiamo trovato un avversario in salute, con degli attaccanti che allungavano bene, attaccavano la profondità, venivano incontro. Quindi abbiamo trovato delle difficoltà, ma lo sapevamo. Insomma, aveva fatto i complimenti anche il Cagliari, che ha fatto un'ottima partita qui a San Siro. Gian Paolo Pazzini. Ciao Simo. Ciao Pazzo. Si fa un po' fatica a fare domanda a te, perché comunque la vostra stagione è qualcosa di... Chiedi a lui, fatti una domanda e datti una risposta. No, veramente, si fa veramente fatica. Quindi Simo, ti chiedo stasera cosa ti è spasciuto di più? Il fatto di non aver vinto, il fatto di così, di non poter battere magari un eventuale record di 102 punti, di non aver due risultati su tre per il derby o di aver preso due gol, qual è la cosa che ti ha dato più fastidio? Bellissima domanda. Questa è una bellissima domanda. Non aver vinto, chiaramente, con questo pubblico, noi vogliamo sempre vincere e ottenere il massimo. Sappiamo qual è il nostro percorso, come ci siamo regati e sappiamo che siamo vicini al traguardo, ma mancano ancora sei partite e 18 punti, quindi bisogna rimanere sul pezzo. Ma i ragazzi, insomma, non ho dubbi, questa settimana hanno lavorato benissimo, quindi chiaramente dovremmo valutare il primo gol, perché per quanto riguarda il secondo c'è poco da dire. Sul primo dovevamo lavorare meglio di reparto, perché sul lancio lungo, chiaramente, solitamente facciamo meglio. Ecco, il pazzo ha toccato il tasto derby. Ieri sera dicevamo, immaginando doppia vittoria Inter e Milan, servirà un successo all'Inter nel derby per vincere lo Scudetto. Poi il Milan ha pareggiato Reggio Emilia, abbiamo detto no, forse serve la vittoria e poi il pareggio. Adesso è arrivato questo pareggio a San Siro. E al di là di 1x2, quanto darebbe lustro da 0 a 10, ancora più lustro, al vostro straordinario cammino, secondo lei, vincere il titolo la seconda stella il giorno del derby contro il Milan? Ma chiaramente ci farebbe piacere. Ci prepareremo bene per lunedì. Noi chiaramente stasera volevamo vincere. Lunedì prepareremo un grandissimo derby per farlo nel migliore dei modi. Poi se il traguardo verrà tagliato lunedì meglio, se no ci saranno altre partite. Chiaramente la nostra concentrazione adesso chiaramente è a lunedì, sappiamo quello che ci aspetta. Giochiamo contro una squadra che è seconda in classifica, che ha avuto un ottimo percorso, che chiaramente vorrà fare del proprio meglio davanti ai suoi tifosi. Stefano? Buonasera Inzaghi. Ecco, questo sarà lunedì. Ciao Stefano. Ma la settimana, come si vive questa settimana? Come si prepara questo derby? Andando magari a lavorare scrupolosamente su quei dettagli che prima segnalava, quelle piccole cose, quelle piccole sbavature delle ultime due partite? O magari percorrendo il flusso, non so come spiegarmi, seguendo l'ondata di questa stagione che aspetta solo il suo compimento. Come la prepara questa partita? Come sempre, faremo l'analisi il giorno della ripresa del match di stasera col Cagliari e poi andremo a lavorare da mercoledì per arrivare a lunedì nel migliore dei modi, cercando di portare tutti i giocatori, tutti e 22, perché stasera avevamo due squalificati, gli altri 20 giocatori di movimento erano a disposizione. Spero che per lunedì di poterli avere tutti i 22, compresi i tre portieri, per fare le scelte migliori. Poi chiaramente un derby sappiamo cosa rappresenta, soprattutto in questo momento, cosa è rappresentato negli ultimi anni per noi, però rispetteremo come sempre il Milan, come abbiamo sempre fatto. C'è anche Andrea Stramaccioni qui, quindi lo chiedo sia a Enzaghi sia a Stramaccioni. Per una volta possiamo dire che il derby di Milano supera per tensione, aspettativa, ansia o di Roma? Simone l'ha vissuto, io credo che il derby di Milano, non lo dico io, lo dicono i fatti, spesso valga il titolo italiano, è valso nella storia. Però a Roma è la prima data che ti segni sul calendario. No, assolutamente, però anche perché spesso la stracittadina ovviamente si sostituisce in questo caso. Credo che Simone abbia espresso perfettamente quello che è anche il mio pensiero, cioè l'Inter vuole vincere il suo scudetto. Se ciò avvenisse in uno scontro diretto con il Milan, i greci dicevano sarebbe la catarsi, l'apoteosi. Penso sia questo Simone che pensi, no? Assolutamente sì, insomma sappiamo i derby di Roma, i derby di Milano sono partite molto molto intense. Insomma noi ci siamo passati dentro l'anno scorso una semifinale di Champions, non erano tantissimi anni che non si giocava, è capitato, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. A Roma mi era capitata una semifinale di Coppa Italia, quindi ne ho già giocati tanti, fortunatamente ne ho vinti tanti, qualcuno l'ho perso purtroppo e cercheremo lunedì insieme ai ragazzi, insieme ai nostri tifosi che saranno con noi da arrivarci nel migliore dei modi. Ma lei ha spazio sull'avambraccio? Perché Pioli ha vinto lo scudetto due anni fa e si è tatuato il trigolore, Spalletti ha vinto lo scudetto l'anno scorso? A me non piacciono i tatuaggi. Ok, quindi niente, avrà pensato a qualcos'altro? Vedremo. Va bene, ci vedremo lunedì tra otto giorni. Grazie a Simone Inzaghi. Grazie a voi, buona serata. Grazie a te, grazie. Grazie a te, grazie a te prossimo.